Musica Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con speciale lezioni. Questa settimana vi proponiamo il terzo appuntamento dei confronti tra le liste che si confrontano nella scadenza elettorale del 10 febbraio prossimo, liste che hanno per il sosteggio di questa settimana nei nostri studi i rappresentanti candidati nella circoscrizione provinciale dell'Aquila. Abbiamo tre liste presenti e presenteremo subito i loro rappresentanti, i candidati, appunto, e sono state sorteggiate in questo ordine che si riferisce al collegio dell'Aquila. In un ordine preliminare anche è stato fatto un sorteggio per chi risponderà alle nostre domande, domande che ovviamente consentiranno loro di esporre i programmi e alle quali la risposta dovrà avvenire nei tre minuti ormai nostri consueti. I rappresentanti sono già nei nostri studi, io li ringrazio e li presenteremo man mano appunto che risponderanno alla prima domanda, anche perché la prima domanda sarà appunto di illustrazione della lista e delle ragioni per le quali si è sostenuto il candidato presidente della regione, della cui coalizione sono parte integrante. Ringrazio e saluto Maurizio Di Nicola della lista Pio Abruzzo, buonasera. Buonasera a voi e grazie a voi. Di Nicola, lei è candidato in questa lista che peraltro da oggi, perché ieri c'è stato un congresso, rappresenta anche un partito che si sta formando, che ha avviato una fase costituente, che ha eletto ieri anche un proprio segretario nazionale, una lista che ovviamente era nata dal territorio proprio in vista della scadenza delle regionali in queste settimane, mettendo insieme delle forze, sulla cui ispirazione culturale e sulla cui qualità delle candidature ci parlerà lei tra poco. È una lista che, ecco il punto fondamentale, fa parte dell'ampia coalizione che sostiene la candidatura di Giovanni Legnini. Allora le chiedo cos'è Pio Europa e perché ha deciso di scendere in campo a sostegno di Giovanni Legnini in questa sfida del 10 febbraio. Maurizio Di Nicola, che è consigliere regionale uscente e delegato ai trasporti. Sì, grazie. Un saluto alle elettrici e agli elettori. Ieri abbiamo eletto Benedetto Della Vedova, segretario nazionale di Pio Europa. In Abruzzo abbiamo lavorato a costruire una declinazione regionale di Pio Europa, che porta il nome di Pio Abruzzo Centro Democratico. Io sono il capogruppo uscente del Partito del Centro Democratico. Con me in lista sono presenti una serie di giovani amministratori e di persone della società civile. In particolare il consigliere comunale dell'Aquila, Elisabetta Vicini, il consigliere comunale di Sulmona, Fabio Pingue, il sindaco di Cappadocia, Lorenzo Lorenzin, Antonella Lopardi e Paola Federici dal mondo della società civile. Poi c'è Roberto Di Masci per quanto riguarda il partito radicale che ha contribuito alla costruzione di più Europa a livello nazionale e di più Abruzzo a livello territoriale. Abbiamo scelto di accompagnare la candidatura di Giovanni Legnini perché riteniamo che sia una persona di prestigio che ha già dato prova della sua qualità politica rappresentando nelle istituzioni parlamentari del nostro Paese, sia alla Camera che al Senato, negli anni, le ragioni e le istanze del nostro territorio ed ha affrontato nell'ultimo periodo anche questa brillante esperienza come vicepresidente del CSM. Ed è quindi una persona che sceglie di tornare indietro rispetto al cursus honorum, se così si può dire, pur di aiutare questa regione Abruzzo che ha ancora tante sfide da portare avanti e da concludere rispetto ad un'amministrazione regionale uscente che ha tanto fatto che forse meglio poteva comunicare in alcuni frangenti ma che deve ancora completare la propria fatica di amministrazione. Giovanni Legnini crediamo che abbia davvero tutte le qualità e non avremmo potuto fare diversa scelta soprattutto considerando le altre candidature che per motivi diversi sono lontane dal territorio abruzzese e lontane dal modo nel quale più Europa e più Abruzzo intendono la politica. Ci caratterizzeremo evidentemente anche in regione per i temi che ci contraddistinguono a livello nazionale cioè diritti civili, apertura alle ragioni dei più deboli, solidarietà in particolare e poi valore del mercato rispetto a tante partite che ancora in Abruzzo sono aperte temperate dalla solidarietà che è un tratto distintivo abbiamo voluto metterlo anche nel sottopancia del nostro brand più Abruzzo col quale competiamo in regione insieme a liberale e popolare perché rigettiamo le ragioni dei populisti ma pensiamo che il popolo che ha sicuramente dovuto soffrire in questa fase di crisi economica più di quello che sarebbe stato giusto in questa epoca storica merita tutta la nostra attenzione a quel popolo noi vogliamo essere vicini ma parlando alla testa di quelle persone non alla pancia come stanno facendo ormai da troppo tempo i movimenti populisti animando un odio anche nella comunicazione politica che noi riteniamo non debba far parte assolutamente del confronto e dello spirito con il quale si costruisce il futuro e con il quale noi vogliamo costruire un futuro per la regione Abruzzo. Grazie Maurizio Di Nicola anche per essere stato perfetto nei tempi sempre nella coalizione che sostiene Giovanni Legnini c'è una lista che si chiama Centristi per l'Europa Europa filo conduttore credo anche punto di comunicazione con la lista che abbiamo appena presentato quella di più Abruzzo ma comunque un'ispirazione anche culturale di un'area diversa che è quella dei centristi, dei cattolici in studio Alfonso D'Alfonso buonasera D'Alfonso che è uno dei candidati nella circoscrizione provinciale dell'Aquila allora ecco qual è il valore aggiunto che la vostra lista che rappresenta dicevo un'area probabilmente culturale diversa rispetto a quella di più Abruzzo porta all'interno della coalizione di Legnini perché lo avete scelto come punto di riferimento in questa campagna elettorale? ma innanzitutto dobbiamo dire che tantissimi di noi impegnati in questa competizione elettorale lo sono perché c'è stato un appello di Giovanni Legnini a rimboccarsi le maniche e a affiancarlo in questa competizione se non ci fosse stata la candidatura di Giovanni Legnini probabilmente questa competizione elettorale avrebbe avuto tutta un'altra storia Giovanni ha chiesto a noi di rimpegnarsi di rimpegnarsi in una maniera comunque rinnovata e diversa abbiamo visto come in questa competizione elettorale c'è ancora un simbolo un simbolo che è rappresentato per tantissimi anni la storia dei cattolici popolari impegnati in politica però quella è un'operazione vecchia i simboli vanno affidati alla storia e non vanno utilizzati per acchiappare un po' di voti noi abbiamo ricostruito un'area che è quella dei cattolici popolari che fanno della solidarietà e della dottrina sociale della Chiesa il proprio credo in politica lo abbiamo fatto in forma rinnovata puntando essenzialmente al mondo del volontariato, dell'associazionismo mondo che è alla base dell'impegno politico per essere più vicini ai più deboli quando parliamo di solidarietà parliamo anche di solidarietà tra i territori e non soltanto alla solidarietà anche se importante tra le persone in una competizione elettorale dove di territori e di Abruzzo ahimè purtroppo ne parliamo soltanto noi forse perché altri utilizzano argomentazioni che sono avulse dalla nostra regione noi vogliamo riportare il dibattito su questi temi però vogliamo che gli abruzzesi si rendano conto che il loro voto non può essere turlupinato così come si sta facendo si sta facendo una campagna elettorale dove sembrerebbe che noi siamo lì per essere invasi da orde di immigrati o dove nella nostra regione ci si debba confrontare con l'insicurezza e con la paura così non è l'impegno dei cattolici in politica nella nostra regione vuole essere anche un primo passo per la ricostruzione di un centro-sinistra moderato che sappia fare da argine a questa politica che non sta vicino agli interessi dei cittadini e delle persone vogliamo in sintesi fare di questa competizione elettorale regionale un momento per ridare un buon governo alla nostra regione e per far ripartire un discorso politico che possa riportare al centro l'interesse dei più deboli anche nel governo del nostro paese grazie D'Alfonso candidato della lista Casa Pound che sostiene il candidato presidente alla regione Flaiani e ospite in studio Marco Mancini esponente della lista circoscrizionale dell'Aquila ricordiamo che Casa Pound è presente in tre circoscrizioni provinciali in queste elezioni non essendo stata accettata la lista presentata a Pescara allora Mancini, campagna elettorale in cui Casa Pound propone un discorso totalmente alternativo anche rispetto a una coalizione, quella dell'area di destra, centro-destra che comunque sta insistendo molto proprio sui temi di cui parlava D'Alfonso l'immigrazione e la sicurezza ecco, allora perché il voto a Casa Pound è più credibile rispetto a questi temi a vostro avviso? intanto fornisco un chiarimento anche se qui parliamo ovviamente della circoscrizione dell'Aquila però noi saremo comunque presenti in forma indiretta sulla scheda elettorale anche nella provincia di Pescara nel senso che sarà possibile votare il nostro candidato presidente Stefano Flaiani anche senza il simbolo di Casa Pound Italia quindi questa è la prima cosa che volevo chiarire per quanto riguarda le ragioni della nostra candidatura della mia nello specifico va detto innanzitutto appunto che noi siamo l'unica forza politica alternativa ai tre schieramenti principali quindi centro-destra, centro-sinistra e Movimento 5 Stelle che ha compiuto un grande sforzo di raccolta delle firme per presentarsi a queste elezioni perché noi abbiamo raccolto più di 6.000 firme in tutta la regione almeno 1.500 ogni provincia e lo abbiamo fatto non avendo pacchetti di voti non avendo truppe cammellate non avendo amministratori locali se non un sindaco della provincia dell'Aquila che ci sostiene nel nostro candidato che è Pio Feneziani il sindaco di San Pio delle Camere quindi con un lavoro fatto dal basso dai nostri militanti presenti in tutta la regione e questo testimonia comunque un grande sforzo organizzativo e una grande presenza sul territorio e quindi abbiamo voluto portare direttamente all'attenzione degli elettori abruzzesi la nostra proposta politica che è diversa da quella del centro-destra perché abbiamo deciso di non mescolarci con forze politiche lo diceva l'Alfonso prima come l'Udc per esempio che hanno presentato personaggi che fino a ieri stavano nella coalizione di centro-sinistra poi qualcuno ha fatto finta o se ne è accorto non lo so, forse non si sono messi bene d'accordo all'atto della presentazione delle liste si è stata un po' di ammuina come si direbbe a Napoli un po' di polemiche ma poi non si capisce bene se tutto si è rientrato o meno però di fronte a questo teatrino della vecchia politica noi vogliamo portare invece una nostra proposta che è una proposta di coerenza che nasce dall'attenzione che noi abbiamo per il territorio per i diritti dei cittadini per i problemi e i bisogni di tutti gli abruzzesi che viviamo quotidianamente con le nostre nuove sezioni aperte sul territorio abruzzese con le iniziative in campo sociale che portiamo avanti dalla raccolta alimentare al dopo scuola gratuito agli sportelli di assistenza legale gratuita questa è l'attività di Casa Pound e questa è l'attività che noi vogliamo portare anche in Consiglio regionale è vero, ci sono forze politiche penso per esempio alla Lega che un po' hanno ripreso negli anni scorsi i nostri temi e che adesso sembrano un po' con il vento in poppa però, tanto per rimanere alla questione dell'immigrazione della settimana scorsa la notizia del famoso sgombero del centro di accoglienza a Castelnuovo, nel Lazio ecco, parte di quegli immigrati sono stati portati qui nella provincia di Teramo quindi è un po' un giochino delle tre carte il governo, dobbiamo ancora vederlo il governo giallo-verde alla prova dei fatti e soprattutto nel momento in cui si utilizzano è vero argomenti di pancia noi vogliamo invece centrare la proposta sui temi che interessano gli abruzzesi e sui problemi dell'Abruzzo perché questa, ricordiamo, è comunque una campagna elettorale per le elezioni regionali certo, grazie è una campagna sulle regionali però io farei un'altra domanda un po' più politica generale perché poi abbiamo anche tempo di entrare nelle singole questioni che soltanto in apparenza è lontano dalla discussione regionale che è il tema dell'Europa perché da versanti diversi dicevo inizialmente tutti avete un'ispirazione europeista o anti-europeista come è il caso di Casa Pound e soprattutto perché l'Europa che viene vista sempre così lontana è invece parte integrante della vita di una regione anche del suo consiglio regionale che verrà eletto dopo il 10 febbraio in una situazione di bilancio nella quale le poste sono ingessate dalla sanità, dai trasporti e dalle spese correnti l'unico fronte su cui una regione può sviluppare la propria fantasia creativa è proprio nell'utilizzo dei fondi europei ecco, su questo io vorrei capire quali sono le vostre proposte e soprattutto che tipo di approccio vivere sia culturalmente sia operativamente nel rapporto tra regione Abruzzo e Unione Europea iniziamo in questo caso da Alfonso D'Alfonso nel sorteggio centristi per l'Europa ma iniziamo col dire che l'Europa l'Europa appartiene la scelta europeista nel nostro paese quindi nella nostra regione appartiene alla storia dei cattolici impegnati in politica come non ricordare che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale grazie soprattutto all'impegno e alla volontà di buttarsi dietro le spalle gli orrori della Seconda Guerra Mondiale grazie a Denauer a Schumacher a De Gasperi si è avviato il percorso per la costruzione dell'Europa così come oggi noi la conosciamo inizialmente è stata un'Europa dei mercati per poi e questo forse è stato è un traguardo ancora da raggiungere la costruzione vera dell'Europa dei popoli oltre che a essere l'Europa dell'istituzione noi siamo europeisti convinti riteniamo che l'Europa non va guardata come non va vista come un ostacolo alla crescita e allo sviluppo dei popoli ma l'Europa va costruita e forse va corretta in alcuni suoi aspetti che non la porta a essere distante distante un po' dai popoli appunto il discorso delle risorse e dell'utilizzo delle risorse è un discorso centrale ormai gli stati e gli stati membri destinano parte significativa dei propri bilanci all'Europa appunto e bisogna essere bravi a recuperarli e a saperli spendere e saperli spendere spendere bene dobbiamo anche partire dal presupposto che bisogna programmarla questa tipologia di spesa dobbiamo programmarla e programmarla al meglio c'è chi in Europa è più bravo di noi nel farlo talvolta basta poco basta saper copiare copiare e copiare bene basta avere dei modelli e basta saper progettare questo è lo sforzo che anche la nostra regione deve fare perché senza quelle risorse soltanto con le risorse statali noi non possiamo fare quel balzo avanti nello sviluppo dei nostri territori uno dei campi su cui bisogna sicuramente fare di più e fare meglio è quello dell'agricoltura i fondi del PSR non possiamo non renderci conto che magari una migliore pianificazione una pianificazione maggiormente fluidificata con una burocrazia meno opprimente ci potrà portare a spendere di più e a spendere meglio così come in altri settori noi dobbiamo fare la stessa cosa sul sociale ad esempio sul sociale ci sono risorse che vanno meglio intercettate grazie Marco Mancini il vostro anti-europeismo come si coniuga sul rapporto tra l'Europa Bruxelles Strasburgo e la vita delle regioni e anche i fondi ai quali le regioni possono attingere e accedere ma diciamo intanto che Casa Pound non è contro l'Europa l'Europa oltre a essere un continente da un punto di vista geografico è un dato di civiltà che accomuna i popoli europei Casa Pound è contro questa Unione Europea il perché è presto detto lo abbiamo visto in questi anni l'Unione Europea è un progetto che come è stato già detto nasce da basi fondamentalmente economiche e che ha in realtà però delle ragioni per così dire politiche cioè se pensiamo per esempio alla moneta unica la moneta unica cioè l'idea di una stessa moneta che unisca tante economie diverse è un concetto che da un punto di vista economico e questo oggi lo dicono tutti gli economisti insomma da Stiglitz in giù non sta in piedi quindi l'Euro è stato creato perché è fondamentalmente appunto un progetto che ha delle finalità politiche e queste finalità politiche che è appunto l'idea di andare verso più Europa quindi verso una maggiore integrazione a marce forzate sfruttando la crisi come strumento appunto per nuovi avanzamenti quindi un concetto se vogliamo anche molto violento diciamo così le conseguenze le abbiamo viste in questi anni le abbiamo viste dopo la crisi del 2008 in cui sostanzialmente i paesi non hanno potuto reagire a quello shock economico con gli strumenti della politica monetaria e hanno dovuto trovare per recuperare competitività l'unico modo che in quel momento era possibile cioè distruggere i redditi distruggere la domanda interna creare recessione questo è quello che abbiamo visto in questi anni in Italia e quindi anche in Abruzzo io voglio far notare che questo è un paese che non ha ancora recuperato il livello di reddito di prima della crisi sono passati più di dieci anni questa è la situazione quindi non è che c'è da aggiustare qualcosina l'idea è che non può esserci una nuova Europa se prima non viene distrutto questo Moloch che è camminato in Unione Europea e rispetto al quale tra l'altro va ricordato che l'Italia è un contributore netto quindi quando si parla di fondi europei va sempre ricordato che l'Italia paga all'Europa più di quello che poi le ritorna indietro detto questo se questi soldi ci ritornano indietro è chiaro che vanno utilizzati e vanno utilizzati meglio quindi va sicuramente fatta una programmazione migliore sull'attrazione di quelli che sono i fondi comunitari poi ci sono tante tipologie di fondi adesso non scendiamo troppo nel dettaglio ma su questo però l'Abruzzo deve dire la sua anche in quella che è definita la fase ascendente cioè non c'è solo la fase in cui questi soldi piovono e noi dobbiamo inventarci qualcosa qualche progetto per prenderli c'è anche la fase in cui noi dobbiamo contribuire alle politiche europee finché ci stiamo e finché vogliamo rimanerci diciamo così è chiaro che dobbiamo dire la nostra quindi in questa fase ascendente le regioni devono dire la loro anche rispetto al governo nazionale perché anche i criteri in base a cui questi fondi poi vengono corrisposti e vengono erogati che spesso sono criteri che vengono imposti appunto da altri paesi e che quindi non si attagliano a quelle che sono le caratteristiche della nostra regione possano essere modificati ecco ovviamente faccio riferimento anche all'esperienza del presidente di commissione di Maurizio Di Nicola che ha vissuto per cinque anni questo tema del bilancio in prima persona per cogliere da lui qualche riflessione qualche proposta su come una regione possa realmente poi trovare la benzina per far camminare le proprie buone idee attraverso l'Europa perché questa è un po' la sfida che al di là di una gestione ordinaria difficile difficoltosa complessa come quella della sanità dei trasporti e delle altre voci praticamente correnti della spesa regionale è quella che può far fare un salto di qualità reale a una regione come l'Abruzzo appunto la spinta che può arrivare da intercettare opportunità europee ma innanzitutto iniziamo col dire che la Val di Sangro è un distretto fiorentissimo e importante in termini di export per l'Abruzzo rispetto allo scenario regionale nazionale ed europeo ed è una ragione sufficiente per dire che l'Abruzzo ha bisogno dell'Europa iniziamo col dire che il nostro turismo costiero e montano accoglie in continuazione visitatori dall'Europa iniziamo col dire che la battaglia condotta da Luciano D'Alfonso in termini di recupero nelle reti d'NT dei tracciati infrastrutturali dell'Abruzzo è una battaglia che è stata incardinata e che vinceremo nella prossima legislatura regionale e alla quale colleghiamo anche il tratto importante di congiunzione che va dalla Spagna al porto di Civitavecchia attraverso la regione Abruzzo attraverso i due interporti di Avezzano e Manoppello per ricongiungersi con il porto di Ortona e andare dall'altra parte dell'Europa verso l'est Europa in direzione Cina e via della Seta iniziamo col dire che l'Europa è un'opportunità di crescita per i nostri territori iniziamo col dire che molti giovani abruzzesi sono in giro per l'Europa oggi purtroppo ahimè ma io dico con la speranza e l'obiettivo di ricondurli qui a casa loro qui sì ci sta bene il termine a casa loro e stanno facendo esperienza formazione e opportunità in giro per l'Europa arricchendosi ma anche arricchendo e quindi diciamo che questo confine europeo è lo spazio dentro il quale il cittadino responsabile è impegnato che il cittadino che noi vogliamo non il cittadino incattivito chiuso che guarda agli altri con odio ma noi vogliamo che le persone tra loro si guardino si confrontino per costruire futuro è un cittadino abruzzese italiano ed europeo e nello scenario del mondo il rapporto dell'Europa con i player mondiali come Cina Canada Brasile Stati Uniti Russia India Giappone è l'unico rapporto possibile l'Italia rispetto a questi scenari di economia globale non ha altra possibilità che stare dentro l'Unione Europea un soggetto che ci ha garantito il periodo più lungo della storia di pace e di benessere e di crescita delle opportunità in termini di livelli di istruzione di livelli di reddito di livelli di assistenza sanitaria secondo il principio universalistico dopodiché serve più Europa serve di mettere a frutto elementi di organizzazione di questa grande costruzione delle menti brillanti che prima sono state citate in una logica di maggiore operatività non possiamo pensare che l'esternalizzazione di un'impresa abruzzese che va in Polonia si risolve chiudendo il confine nazionale bisogna dare una fiscalità unica allo scenario europeo bisogna dare delle regole uniche in termini di gius lavorismo e di diritto del lavoro e si vedrà che le imprese non avranno più ragioni per spostarsi ma lasceranno la crescita lì dove è per fare questo serve più Europa la regione Abruzzo ha tutta una serie di fondi che possono essere spesi e rispetto ai quali questa contaminazione su come gli altri popoli europei si attivano per creare opportunità di lavoro è ciò che noi dobbiamo raccogliere dalla sfida europea grazie grazie Nicola ora la prima delle nostre pause poi torneremo in studio per un secondo round di domande linea alla regia bene siamo tornati in studio stiamo ascoltando a confronto le proposte per l'Abruzzo di rappresentanti di tre liste in competizione tra loro nella elezione del consiglio regionale che avverrà il prossimo 10 di febbraio sono rappresentanti della circoscrizione provinciale dell'Aquila è proprio su questo territorio che io indirizzerei la prossima domanda a partire da Marco Mancini rappresentante di Casa Pound la provincia dell'Aquila vive una situazione anche diversa rispetto alle altre per la particolare conformazione della propria vita sociale tre grandi città l'Aquila sul Monavezzano ma anche le aree interne che vivono la situazione in montagna e nelle valli di marginalità di difficoltà ecco dal punto di vista del vostro programma qual è la misura qual è l'indirizzo che voi intendete dare se presenti in consiglio regionale per diminuire questo gap tra aree interne e il resto della regione Abruzzo intanto diciamo che quello delle aree interne è un tema che ci è particolarmente caro tant'è vero che noi in autunno abbiamo organizzato all'Aquila una conferenza programmatica proprio sul tema e sulle problematiche delle aree interne in cui abbiamo trattato tanti temi perché questa ovviamente è una questione trasversale che coinvolge quindi tanti argomenti dalla sanità ai trasporti alle attività produttive e così via diciamo questo noi siamo attivi nelle lotte sul territorio e potrei fare alcuni esempi ad esempio per quanto riguarda Summona sappiamo che c'è un problema che è quello che riguarda il punto nascite che da decreto Lorenzin dovrebbe essere chiuso dal momento che si trova sotto la fatidica cifra delle 500 nascite l'anno Casa Pano su questo è stata sempre molto attiva l'ultima volta siamo stati in piazza a novembre con un presidio con militanti da tutta la regione a Summona sotto la pioggia per dire che il punto nascita deve restare aperto semplicemente perché appunto le aree interne e la provincia dell'Aquila in particolare hanno una conformazione geografica orografica in particolar modo che ovviamente le rende diverse rispetto ad esempio a una zona costiera quindi è inutile andare ad applicare dei criteri numerici quando poi sappiamo benissimo che la realtà è diversa perché se dall'altopiano delle 5 miglia bisogna andare a Summona è chiaro che le difficoltà che si incontrano soprattutto durante la stagione invernale non sono le stesse che si possono incontrare in un'area costiera quindi tutelare sicuramente i presidi sanitari delle aree interne questo è il primo punto da cui partire tutelare e sviluppare i trasporti delle aree interne noi abbiamo una situazione delle autostrade che conosciamo benissimo Casavano ha una posizione molto chiara che è quella per la nazionalizzazione della rete autostradale è una proposta che sostenevano anche quelli del Movimento 5 Stelle mi ricordo soprattutto la parola tragedia di Genova Di Maio disse per non farci nazionalizzare la autostrade dovranno passare sul mio cadavere sono passati diversi mesi questo cadavere ancora non lo vediamo passare adesso ha fatto un video qualche settimana fa con Di Battista in cui dice che bisogna aspettare il bollino unico europeo nel frattempo insomma saremo morti quindi vedo che anche su quello molte battaglie sono state abbandonate abbiamo una situazione della viabilità per esempio per la situazione che conosco bene diciamo quella dell'Alto Aterno che è un'area anche terremotata magari dopo ne parleremo in cui c'è la strada che praticamente tra Ringo e Campotosto è stata chiusa per più di un anno quindi sostanzialmente i cittadini di Campotosto avevano una sola strada che è quella che va verso l'Aquila che l'altra settimana noi abbiamo denunciato con un post era ancora ricoperta di ghiaccio e neve quindi anche la pulizia e la manutenzione delle strade è latita perché ci sono le strade di competenza provinciale su cui sostanzialmente non si fa nulla le strade alcune delle quali fortunatamente sono passate in gestione all'ANAS su cui la situazione è leggermente migliore ma insomma se noi non riprendiamo una politica seria di investimenti sulla viabilità delle aree interne e anche sullo sviluppo tecnologico penso per esempio alla banda larga è chiaro che pensare a uno sviluppo di queste aree diventa sinceramente un'illusione Inicona Partiamo dalla fine dell'intervento precedente innanzitutto sulla banda larga la regione Abruzzo in questi anni ha accompagnato i processi di investimento nazionali al massimo possibile siamo al pari con le regioni migliori d'Italia altrettanto è stato fatto per la gestione delle strade all'ANAS e nell'investimento regionale su tutta una situazione di criticità le aree interne in particolare hanno bisogno di due cose una fiscalità di vantaggio su base regionale che magari consenta di pagare meno il riscaldamento è uno dei problemi veri della regione Abruzzo e delle aree interne hanno bisogno di mobilità particolare e dedicata in questo ultimo periodo nel quale ho seguito il settore dei trasporti per conto della regione Abruzzo ho già iniziato a lavorare in questa direzione per far sì che si ripensi non solo la rete di mobilità ma la programmazione stessa del come i centri montani vengono messi in collegamento tra di loro siamo stati organizzati per un lungo trentennio meramente come collegamenti da ciascun centro montano verso un hub di riferimento che poteva essere l'Aquila sul Mona o d'Avezzano è necessario ricongiungere questi centri montani con nuove linee di percorrenza è un lavoro che si può fare e che si può fare con dei mezzi anche ad alta sostenibilità ambientale anche con caratteristiche specifiche per i piccoli territori al servizio degli anziani e delle giovani coppie che io immagino possano voler tornare ad investire nelle realtà montane perché c'è un profilo ambientale e turistico di assoluto valore ma c'è soprattutto un deficit dal punto di vista della struttura amministrativa di questi territori io sono stato proponente nella scorsa legislatura di una legge per la fusione dei piccoli comuni i comuni polvere hanno bisogno di essere avvicinati e messi insieme io mi auguro anche con processi di fusione perché la classe dirigente territoriale quella stessa classe dirigente che deve cogliere le opportunità dell'Europa quella serie di bandi che dicevamo prima vengono messi a disposizione come risorse da spendere e che spesso non riusciamo a spendere perché nei territori non si creano quei nuclei addensanti di organizzazione e capacità che riescano poi a tradurre in servizi per le persone quel denaro messo a disposizione ma dobbiamo smettere di dire che non spendiamo fondi comunitari senza affiancare a questo un serio esame di coscienza su come le classi dirigenti delle aree interne si organizzano per essere accoglienti rispetto a queste disponibilità riformare quindi i piccoli comuni mettendoli insieme ed avvicinandoli per fare massa critica in termini di classe dirigente e di burocrazia la sanità per quanto mi riguarda è stato un pallino centrale nel corso della precedente amministrazione regionale abbiamo voluto distinguerci come centro democratico anche con un voto contro la maggioranza della quale facevamo parte perché riteniamo che i servizi sanitari debbano essere particolarmente ricostruiti secondo criteri di attenzione all'orografia del territorio detto questo però anche in questo caso va capito che il bilancio della regione Abruzzo che ha un suo irrigidimento e del quale mi auguro di poter parlare a breve necessita riprogrammare per bene gli investimenti in materia sanitaria e delle logistiche sanitarie e magari guardandoli con uno scenario a vent'anni perché la diagnostica i macchinari tutto ciò che servirà alla sanità del futuro non è ciò che abbiamo oggi ma è ciò che verrà noi vogliamo più Abruzzo anche in questo senso uno sguardo rivolto al futuro per arrivare prima degli altri e meglio degli altri sapendo che la regione Abruzzo ha scalato i livelli LEA in questi anni e si trova al pari con le regioni del nord Alfonso D'Alfonso lei peraltro anche dal punto di vista personale imprenditoriale ha fatto una scommessa sua sulle aree interne sul destino di un territorio al quale sono legate le sue radici in qualche modo ecco può essere anche la leva del turismo quella della recettività la sfida vincente per territori belli come quelli della provincia dell'Aquila di un po' tutto l'Abruzzo interno ma sicuramente sì il turismo è una di quelle leve che opportunamente utilizzata può dare una crescita all'economia delle aree interne innanzitutto voglio qua ricordare come la questione dell'Abruzzo interno è stata da sempre nella nostra regione una una dei temi principali della storia dell'impegno dei cattolici in politica è vero oggi abbiamo un problema di qualità della nostra rete autostradale ma debbo ricordare a me stesso ma ricordarlo un po' a tutti che se la nostra regione ha una rete infrastrutturale autostradale così come ce l'abbiamo lo si deve all'intuito e alla scelta forte che a suo tempo fecero uomini come Lorenzo come Lorenzo Natali e che è stata proprio questa rete autostradale a rompere l'isolamento delle cosiddette aree interne pensiamo soltanto al traforo del Gran Sasso che ha reso possibile un collegamento una rottura di isolamento del nostro territorio del nostro territorio aquilano sia nei confronti della costa abruzzese che nei confronti di Roma ora bisogna ripensare allo sviluppo di queste aree ripensarci sull'efficientamento sicuramente delle infrastrutture senza pensare a progetti faraonici su cui le risorse non ci sono o comunque le competenze su questi investimenti sono competenze statali e non regionali andando a efficientare quello che c'è il turismo sicuramente come dicevamo prima è una leva importante perché la qualità della vita nelle aree interne e la qualità dell'ambiente nelle aree interne ricco di storia è sicuramente tra gli ambienti migliori a livello europeo e qua ci ricolleghiamo anche col discorso di prima dell'apertura e non della chiusura nei confronti dell'Europa le nostre attività la domanda che noi abbiamo di turismo è essenzialmente una domanda sì sicuramente nazionale ma anche europea e nord europea come rendere più accogliente le nostre aree i nostri territori migliorando la qualità dei servizi diceva bene De Nicola d'altronde non posso che non essere d'accordo con lui quando parliamo dell'efficientamento dei trasporti della qualità della sanità e rendere possibile e mettere alla pari gli abruzzesi che vivono nelle aree interne con gli altri abruzzesi come? Facendo anche degli sforzi enormi pensiamo alla famiglia che da Castel del Monte deve mandare i propri figli a scuola all'Aquila noi dobbiamo capire che non possiamo chiedere uno sforzo economico straordinario a quella famiglia tra le volte alcuni servizi debbono essere anche gratuiti quello dei trasporti e dei trasporti per rendere possibile l'accesso all'istruzione e all'ocultura debbono essere sicuramente resi gratuiti ai cittadini che vivono in montagna altro tema che introduco ma è un tema che è entrato appieno nella campagna elettorale quello del terremoto che ovviamente in provincia dell'Aquila ha un suo peso anche nel dibattito tra i candidati in queste settimane in questi giorni abbiamo visto l'altro giorno Berlusconi arrivare all'Aquila a rivendicare il ruolo che è stato rivestito nella fase della gestione dell'emergenza abbiamo ascoltato il candidato presidente Giovanni Legnini ricordare che durante la sua esperienza governativa sono stati stanziati i fondi con i quali si sta ricostruendo l'Aquila ma rimane anche un tema che probabilmente è quello cruciale per il futuro di molte comunità specie quelle che vivono a cavallo tra le due province dell'Aquila e di Terno vale a dire la gestione del terremoto del 2016-2017 con i crateri che si accavallano e qui le strutture che non partono su questo ecco quale impulso può dare la regione anche nell'ambito della sinergia con il governo con il commissario straordinario e con le popolazioni ne parliamo ripartendo da Maurizio Di Nicola ma sicuramente deve continuare a pressare ogni struttura già legislativamente prevista affinché faccia il massimo dell'efficienza possibile ma soprattutto non deve sedersi sulla questione della gestione di ciò che è accaduto ma deve continuare a svolgere il ruolo che la Costituzione le impone di programmare programmare significa continuare a far studiare e a monitorare il nostro territorio per far sì che prima che gli eventi accadano la regione Abruzzo sia in grado di pensare ciò che è necessario a mitigare quel tipo di rischio noi in questa amministrazione regionale uscente abbiamo voluto accompagnare l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con un contributo importante affinché potesse continuare a proseguire i propri studi nella provincia dell'Aquila perché riteniamo che il rischio di possibili terremoti non prevedibili evidentemente debba essere studiato in continuazione solo la conoscenza solo la ricerca solo l'approfondimento di questi temi ci consentirà di essere efficienti nel momento in cui purtroppo dovesse tornare a presentarsi la gestione di questo problema e poi la regione deve essere centrale rispetto alle amministrazioni che sono state colpite per far sì che quotidianamente mi verrebbe da dire si sentano coordinate nelle loro iniziative di ricostruzione e di gestione dell'attività di risarcimento del danno che è avvenuta spesso questa politica mediatica che si interessa dei problemi solo nel giorno in cui accadono e che quindi determina anche un'attenzione della stampa e del mondo dell'opinione pubblica in quel frangente ci prospetta in continuazione fatti nuovi dei quali dovremmo essere colpiti e che dovrebbero costituire l'emergenza del quotidiano e ci fanno abbandonare di volta in volta ciò che invece poi realmente emergenza è perché un fatto come quello di un terremoto genera un tema di lavoro di ricostruzione e di riorganizzazione della vita di quelle comunità che è molto lungo a me a volte viene da pensare che la Marsica fu colpita nel 1915 da un violento sisma che fece perdere alla mia città ad esempio la sede Vescovile e tutt'oggi ci sono dei ruderi delle situazioni ancora aperte da quel tempo non ancora chiuse che mi danno la misura di come la disattenzione della pubblica amministrazione può arrivare fino a tempi infiniti questo non deve accadere ma la sensibilità degli aquilani se comprende che bisogna lavorare in termini di ricerca di approfondimento anche dal punto di vista dell'edilizia del quotidiano della programmazione urbanistica del quotidiano è la migliore risposta anche all'emergenza in corso perché ci consente di non doverci dedicare con affanno poi a ricostruire a comprendere come rimettere su le città e le comunità perché avremo fatto un lavoro preventivo il 1915 c'è stato il 2009 c'è stato il 2016 c'è stato noi dobbiamo impedire assolutamente che un futuro terremoto che probabilmente avverrà in un tempo qualunque ci trovi impreparati come purtroppo è stato per quelli che ci hanno preceduto su questo la regione soprattutto a mio avviso con le giovani generazioni deve essere impegnata Alfonso Alfonso diciamo che i terremoti che hanno colpito il nostro territorio hanno segnato in modo indelebile la nostra vita io ho fatto una scelta un po' all'incontrario nel senso che sono ritornato sul mio territorio a investire e a lavorare dopo il terremoto perché è stato forte il richiamo di contribuire a una ricostruzione vera una ricostruzione economica una ricostruzione di vivibilità di una comunità così duramente così duramente colpita quindi la vivo quotidianamente questa realtà e ne denuncio anche quelle che sono i fattori negativi questo è un territorio che ha conosciuto un'accelerazione dello spopolamento non possiamo far finta che tutto va bene dal capoluogo ai centri minori c'è stata un'accelerazione dell'abbandono e se noi non riusciamo a invertire questo fattore a ridare fiducia a chi vive su quei territori a ridare fiducia a chi ci deve investire noi non riusciremo a ricostruire veramente questo tessuto sociale guardate che il livello di burocrazia che strangola anche in quelle realtà chi vuole fare impresa sostenibile è un livello inaccettabile ci sono risorse che sono la portata di mano e non si spendono perché il caso di Invitalia del 4% il famoso 4% per la ricostruzione economica perché ci sono delle regole per la spesa che sono regole oppressive allora ritorniamo a quello che può essere anche un discorso generale la nostra realtà è una realtà e la realtà delle aree interne dove le procedure vanno snellite dove chi fa la scelta di rimanere su quei territori deve avere di fronte un apparato pubblico premiante e non e non appunto oppressivo e dobbiamo ricostruire una società solidale talvolta si ha la percezione che l'abruzzo interno l'abruzzo terremotato sia quasi di peso a una comunità più ampia oddio veramente alcuni leader di questo grande partito sovranista lo hanno detto lo hanno detto chiaramente e invece noi la dobbiamo far avvertire in maniera tangibile che il sistema è veramente un sistema solidale guardate io non credo che ci sia un problema di risorse io credo che ci sia soltanto un problema di far arrivare queste risorse a chi realmente ha una progettualità per poter creare nuove imprese Marco Mancini Casa Paolo allora intanto se mi consente 30 secondi per alcune piccole repliche è stato detto prima bisogna efficientare la rete del trasporto pubblico regionale sì è vero io ricordo che l'amministrazione d'Alfonso nella cui maggioranza era appunto il consigliere di Nicola e il centrosinistra nelle cui file entrambi diciamo i colleghi qui al mio fianco sono candidati è l'amministrazione che ha sottratto le linee Avezzano-Roma sul Monaroma l'Aquila-Roma a quelli che sono i servizi minimi essenziali del trasporto pubblico regionale le ha affidate a San Gritana che le tratterà sostanzialmente come rotte commerciali quindi vedremo nei prossimi mesi insomma o una diminuzione del numero delle corse o un aumento delle tariffe insomma questo quello che succederà lo vedremo però come dire bisogna poi anche andare a vedere quello che è stato o non è stato fatto stessa cosa sui costi del riscaldamento è vero il gas è un costo molto alto per le famiglie delle aree interne con il nuovo anno tra l'altro c'è stato un aumento del 2% però non mi risulta che anche sugli addizionali regionali da questo punto di vista sia stato fatto qualcosa entrando nel tema del terremoto in parte è stato già detto noi abbiamo avuto due crateri sismici quello del 2009 dell'Aquila e quello del centro Italia 2016-2017 quindi Amatrice-Monte Reale abbiamo due strutture di governance differenti abbiamo norme differenti sulla ricostruzione che insistono sulle stesse aree e penso ancora una volta qui al tema dell'alto aterno questo sistema è stato costruito dai governi a guida PD Renzi Gentiloni e su questo la regione di centro-sinistra del governatore D'Alfonso su questo ribattito è stata sostanzialmente assente cioè D'Alfonso ha distrutto le aree interne allora adesso non si può venire qui a dire quanto bene vogliamo alle aree interne quanto le faremo sviluppare in futuro perché se su questa discussione sono stati assenti io ieri sera ero a Montereale per incontrare i cittadini dell'alto aterno e parlando con alcuni giovani mi hanno raccontato di Campodosso dove a parte i primi edifici che stanno sulle strade principali praticamente non si procede neanche alle demolizioni degli edifici inagibili che vanno abbattuti allora se questa è la situazione evidentemente stiamo parlando di qualcosa che non è stato fatto quindi abbiamo da una parte una latitanza anche dei consiglieri che dovevano rappresentare le aree interne dell'Aquila e penso al consigliere Petrucci che viene proprio dalle zone dell'alto aterno è inutile che adesso si ripresenti a un mese dalle elezioni con Legnini a farsi pubblicità a Campodosso piuttosto che a Montereale quando per cinque anni e in particolar modo negli ultimi due anni non si è fatto nulla penso ai 5 Stelle che su questo ribattito sono totalmente assenti anzi c'è qualche consigliera di Roma che dice a Bruzzesi buon inverno nelle baracche con la neve perché votate Salvini c'è un centrodestra che se ne frega perché adesso c'è la corsa a prendersi la poltrona migliore alla regione e su questo non si dice una parola quindi è chiaro che sul tema della ricostruzione bisogna ritarare un attimo alcuni aspetti e bisogna cominciare a occuparsene seriamente perché fino adesso non lo si è fatto basti pensare che l'ufficio speciale per la ricostruzione del centro Italia quindi dell'alto aterno sta a Teramo Noi ci fermiamo per qualche istante poi ovviamente ci saranno anche repliche su questo subito dopo la pubblicità nel terzo e ultimo blocco di Tribuna elettorale Linea alla regia Bene siamo tornati in studio mi farò un'altra domanda relativa appunto alla provincia dell'Aquila e ai temi della campagna elettorale ovviamente si potrà in qualche modo completare il ragionamento perché è molto legata al discorso che stavamo facendo poco fa è il tema dell'Abruzzo che soffre delle persone che hanno bisogno di stato sociale delle persone che hanno bisogno di cure di sanità sul territorio ed è anche l'Abruzzo dei giovani che soffrono la mancanza di lavoro su questo i prossimi cinque anni cosa potranno dire nella vostra attività di consiglieri regionali se eletti in termini di risposte da parte degli abruzzesi che soffrono iniziamo con il candidato della lista centristi per l'Europa Alfonso D'Alfonso in termini di sofferenza la provincia dell'Aquila credo che anche per gli argomenti che abbiamo toccato in precedenza meriti un'attenzione particolare sicuramente il tema della ricostruzione è un tema che riporta a questo discorso di sofferenza e di sofferenza sociale in primo luogo riparto da qua nel dire in maniera molto chiara non si è fatto tutto quello che si poteva fare per quando attiene la ricostruzione all'interno dei due crateri e ribadire voglio dirlo anch'io in maniera altrettanto chiara per quando attiene il secondo cratere e l'impostazione della governance è completamente da rivedere il tema della sanità è un altro tema trasversale diciamo più che della sanità della salute della qualità della salute è un tema molto attuale in provincia dell'Aquila la provincia dell'Aquila ha dovuto pagare un tributo all'azione di risanamento che si è portata avanti però adesso questa azione di risanamento è un'azione che è arrivata al capolinea che si può riguardare con più fiducia e soprattutto si può cominciare a immettere maggiori risorse nella qualità della sanità e qua bisogna dire in maniera chiara in maniera inequivocabile che le strutture ospedaliere in parte ci sono tranne che per l'ospedale di Avezzano che va ricostruito credo che ci siano anche le risorse o l'efficientamento di quello dell'Aquila che bisogna immettere nuovo personale noi non possiamo pensare a un'erogazione di un servizio migliore se non si mette nuovo personale sia a livello medico paramedico che amministrativo in questo settore importante per la qualità della vita che è la sanità soltanto con maggiori medici noi riusciremo ad accorciare le liste d'attesa e soprattutto con nuovo personale riusciremo a portare una migliore qualità della sanità sui territori perché la medicina sul territorio assorbe oltre il 50% della spesa sanitaria complessiva ma bisogna riqualificare il personale e addirittura come dicevo prima aumentarlo altrimenti noi non riusciamo a dare un servizio migliore la sanità tra l'altro se pensiamo all'ospedale dell'Aquila è anche fonte di reddito perché noi abbiamo una mobilità attiva soprattutto da Roma molto significativa che in questo modo potrà essere sicuramente incrementata Marco Mancini allora sì noi siamo molto attenti alle questioni sociali l'abbiamo detto prima dei bisogni degli abruzzesi come Casa Pound che è anche il motivo che ci differenzia un po' dalla coalizione di centrodestra e da forze come la Lega sedicenti sovraniste che magari potrebbero sembrare una prima occhiata più simile a noi ecco la Lega sta puntando tutto sull'immigrazione in queste settimane non saremo noi a dire ovviamente che la lotta all'immigrazione clandestina non sia un tema da affrontare va bene i porti chiusi forse bisognerebbe cominciare a fare anche qualche rimpatio perché come diciamo prima se poi la gente che perde la protezione ce la ritroviamo per strada a delinquere non è che la situazione col decreto sicurezza cambi molto diciamo anzi forse peggiora però non esiste solo l'immigrazione nel senso che anche se noi vivessimo in un mondo a immigrazione zero se non c'è lavoro per i giovani se non c'è un'economia che torna a correre è chiaro che l'Abruzzo entra in difficoltà in ogni caso per cui le questioni sociali vanno affrontate vanno affrontate a cominciare dalla rivendicazione e ripeto i temi che ho detto prima di una sovranità del nostro paese rispetto ai diktat economici che ci vengono imposti da Bruxelles perché ricordiamo anche tutta la partita che c'è stata sulla legge finanziaria il deficit prima doveva essere 2,4 poi 2,04 perché forse non lo so ci prendono per cretini però tutti quegli investimenti come il reddito di cittadinanza eccetera bisognerà vedere che fine saranno e come saranno e come saranno realizzati con delle risorse così limitate noi invece su questo proponiamo declinandole in chiave regionale diciamo alcuni punti che sono punti cardine nel nostro programma quindi il progetto del mutuo sociale regionale per far sì appunto che le giovani coppie possano acquistare delle case a prezzi agevolati e mutui con tassi agevolati e a prezzi sostenibili il progetto del reddito di natalità appunto che noi abbiamo una proposta di legge a livello nazionale che decliniamo in chiave regionale come reddito regionale di natalità quindi un contributo di 500 euro al mese per ogni bambino italiano abruzzese in questo caso dalla nascita ai 16 anni di età abbiamo appunto l'idea di andare a premiare nell'erogazione dei servizi sociali quindi nell'accesso a qualsiasi tipo di servizio nelle gradatorie quelli che risiedono in Abruzzo da sempre quindi è chiaro che non potendo spesso e volentieri inserire una clausola espressa di preferenza nazionale il famoso prima gli italiani perché su quello servirebbe appunto modificare anche la normativa a livello nazionale possono essere però utilizzate forme come residenza di lunga durata eccetera per andare a premiare quelli che sono i cittadini abruzzesi che vivono la nostra terra da sempre quindi le nostre proposte dal punto di vista sociale sono molto articolate passano come ho detto prima anche per la difesa dei presidi sanitari sul territorio per la difesa di quella che è il servizio di trasporto pubblico e per lo sviluppo economico e produttivo che naturalmente deve premiare le piccole e medie imprese che spesso sono strangolate invece da un sistema economico che premia soprattutto i grandi soggetti Nicola sì purtroppo mi tocca replicare al collega ma mi piacerebbe non farlo le corse commerciali non sono state passate dalla giunta d'Alfonso sul Monavezzano sono commerciali forse da 12 anni è stata finanziata dall'amministrazione d'Alfonso tutta una scontistica per il trasporto nelle aree montane ed è stato messo in piedi un riammodernamento del parco auto di 200 programmati nuovi bus di cui i primi 14 sono stati consegnati in questi giorni proprio nella provincia dell'Aquila con un'incidenza numerica superiore alle altre province d'Abruzzo è questo modo di fare politica senza numeri tre delle iniziative che propone il collega candidato di Casa Pound sono state già realizzate dall'amministrazione d'Alfonso immagino che nemmeno le conosca dobbiamo recuperare cari concittadini anche un po' di studio prima di candidarci ad essere consiglieri regionali o politici perché il problema della regione Abruzzo è stato quello del bilancio regionale con una grave situazione di disavanzo che siamo riusciti a riaccertare in modo formale solo nei mesi scorsi che oggi finalmente ci consente di dire che cosa possiamo fare per la comunità degli abruzzesi al di là di venire qui a declamare il mondo dei sogni senza dire da dove si debbano prendere le risorse la fiscalità di vantaggio che ho preannunciato nel mio presente intervento nasce dal fatto che adesso e solo adesso non prima si può capire a quanta fiscalità la regione Abruzzo può rinunciare anche a favore della sostenibilità delle iniziative per il riscaldamento come dicevo prima o cose del genere ma noi vogliamo muoverci su uno scenario che è semplice sostenibilità sostenibilità intergenerazionale significa fare un patto degli abruzzesi tra i più anziani e i più giovani che ci dica che questo disavanzo che abbiamo purtroppo trovato sulle spalle per l'amministrazione sgangherata di un trentennio di amministrazione regionale circa 550 milioni di euro che questa amministrazione regionale ha già programmato come piano di ammortamento e che libera una serie di risorse verrà pagato senza sacrificare i diritti sociali dei cittadini abruzzesi con un recupero fiscale dal punto di vista delle opportunità e quindi defiscalizzazione per alcune categorie dentro uno scacchiere di programmazione delle infrastrutture come ad esempio le ZES noi abbiamo lavorato in modo potente per mettere l'Abruzzo dentro il sistema delle zone economiche speciali che costituiscono quella semplificazione della burocrazia e quella defiscalizzazione della quale parlavo prima che collegherà le aree interne dell'Abruzzo ai due porti di Ortone e di Civitavecchia perché declamare che si vuole defiscalizzare senza dire con quale strumento normativo a mio avviso diventa una mera presa in giro così come le occupazioni l'assunzione nei piani ASL per quanto riguarda il nuovo personale era legata all'accertamento del nostro conto di bilancio e alla chiusura del tavolo di monitoraggio sulla questione sanitaria che sta appesa da anni noi vogliamo investire innanzitutto in culture e distruzione il mezzogiorno deve recuperare in culture e distruzione perché non dobbiamo dire cose non vere e non dobbiamo più credere a cose non vere questo è lo scarto che ci separa dall'Europa che va dall'economia che va su questo più Abruzzo vuole provare a risollevare le ragioni degli abruzzesi siamo all'ultimo giro quello tradizionalmente riservato agli appelli allora chiedo a Marco Mancini che lo apre di spiegarci i motivi per i quali un elettore che si sente di destra deve votare Catafalma intanto voglio dire basta leggere i quotidiani degli ultimi mesi per capire qual è la problematica del trasporto pubblico regionale o la CGL che ha fatto una battaglia su questo si è inventato tutto o Pietrucci che ha fatto approvare le mozioni in consiglio comunale si è inventato tutto oppure evidentemente un problema esiste ma su questo diciamo non voglio andare oltre l'appello che faccio agli elettori non solo di destra insomma degli usi del centro-destra del Movimento 5 Stelle di qualsiasi schieramento politico e di fare a queste elezioni regionali un atto di coraggio perché spesso si fa molto il discorso del voto utile quindi voto chi penso che possa vincere le elezioni o cerco di votare comunque il meno peggio poi dopo sei mesi siamo tutti insoddisfatti del voto che abbiamo espresso per una volta invece credo che si debba avere il coraggio di fare una scelta chiara di fare una scelta di coerenza che esprima un nuovo modo di fare politica che non è la vecchia politica di chi si ricicla passando da uno schieramento all'altro e ne abbiamo diversi esempi che potrei fare diciamo così non è la vecchia politica di chi abbandona le cariche che già ricopre per andare a cercare poltrone più renumerative che non è la vecchia politica anche del Movimento 5 Stelle che doveva aprire il Parlamento con una scatola di tonno adesso ricordo che il 5 Stelle è al governo del Paese quindi vorrei dire alla consigliera Marcozzi insomma sulla questione degli ospedali dei tribunali delle autostrade che il Ministro della Salute è un esponente del Movimento 5 Stelle il Ministro delle Infrastrutture è un esponente del Movimento 5 Stelle il Ministro della Giustizia è un esponente del Movimento 5 Stelle quindi come dire stanno al governo da quasi un anno se ci fanno sapere qualcosa magari sulle vertenze e sulle questioni e sui problemi che riguardano l'Abruzzo gliene saremo grati parlando con i cittadini molto spesso molti sono stanchi sono sfiduciati sono arrabbiati con questa politica quindi magari ci dicono no non ho voglia di andare a votare ho stracciato la tessera elettorale guardate chi non va a votare fa esattamente un favore alla vecchia politica perché ovviamente si ritrovano con degli oppositori di meno invece il vero gesto di coraggio a queste elezioni regionali è aiutare a crescere l'unica vera reale alternativa politica a questo sistema che è Casa Pound Italia quindi barrare il simbolo della tartaruga frecciata Casa Pound Italia significa mandare Casa Pound Italia magari non questa volta ma forse la prossima in consiglio regionale ad essere il cane da guardia dei cittadini abruzzesi nei confronti di una politica che non mantiene le promesse nei confronti di una politica che pensa solo al proprio interesse e invece Casa Pound dentro le istituzioni come noi abbiamo dimostrato dovunque siamo entrati in amministrazioni locali da Osta a Bolsano a Lucca a Ostia e così via fa nelle istituzioni esattamente quello che facciamo fuori dalle istituzioni sul territorio nelle nostre elezioni tutti i giorni 365 giorni l'anno Casa Pound non è come gli altri Casa Pound è diversa perché i suoi leader nazionali il nostro società nazionale Simone Di Stefano è stato arrestato due volte non per droga non per corruzione ma semplicemente per aver difeso una famiglia italiana dallo sfratto e per aver con un gesto simbolico tolto la bandiera dell'Unione Europea da un edificio pubblico quindi i nostri capi sono capi che pagano di persona e lo fanno da responsabili nazionali fino all'ultimo dei nostri militanti questa è la diversità di Casa Pound Maurizio Di Nicola perché votare più Abruzzo perché sostenere il candidato presidente Giovanni Legnini innanzitutto perché scegliete i candidati che conoscono la differenza fra una risoluzione ed una legge tra qualche cosa che obbliga ad un comportamento e qualche cosa che invita a fare determinate cose il Mezzogiorno d'Italia ha un problema di deficit di classe dirigente questo è il vero problema del sud Italia noi dobbiamo ripartire da persone che utilizzano gli strumenti della politica avendo la piena consapevolezza di che cosa la politica sia e di che cosa quegli strumenti facciano abbiamo costruito delle liste con l'obiettivo del fare di più di più significa non fermarci a dove siamo ma i numeri quegli obiettivi quelli sui quali si costruiscono le azioni politiche dobbiamo conoscerli i dati di Banca Italia i dati della Svimez ci dicono che la regione Abruzzo per quanto abbia sofferto in questa crisi al pari di tutte le regioni d'Italia ha saputo reagire soprattutto negli ultimi anni e sta velocemente recuperando la forza occupazionale che aveva all'inizio della crisi i numeri ottimi in materia di sanità e sappiamo che c'è una differenza fra la sanità percepita e la sanità dichiarata dai monitoraggi statistici ma sui monitoraggi statistici finalmente noi ci troviamo al passo con le regioni del nord è il frutto di una fatica che abbiamo compiuto cercando di portare avanti l'analisi delle questioni e dei problemi una regione che deve guardare alle infrastrutture che ci collegano con l'Europa perché siamo baricentrici rispetto allo scacchiere italiano ma anche rispetto allo scacchiere europeo collegare la Spagna all'est Europa attraverso l'Abruzzo significa dare occupazione significa dare opportunità alle imprese significa dare mobilità ai cittadini significa portarci dentro il mondo globale noi vogliamo uscire da questi confini siamo regionalisti abruzzesi ma sappiamo che non possiamo vivere esclusivamente dentro l'Abruzzo nostre personalità ci hanno fatto conoscere nel mondo io vengo da Pescina e mi permetto sempre di ricordare Ignazio Silone che diceva che il destino è un'invenzione della gente fiacca e rassegnata noi dobbiamo uscire da questa condizione nella quale pensiamo di essere area marginale e dobbiamo provare ad investire sul nostro maggior valore che sono le persone le risorse umane quei giovani che sono attualmente fuori e che noi vogliamo che tornino ma per farli tornare dobbiamo offrire loro una rete di persone accoglienti che dia valore alle cose vere e alle cose fatte per bene non possiamo più accontentarci di una politica fatta per slogan tra l'altro sollecitando non le riflessioni non gli argomenti ma le paure delle persone sappiamo benissimo noi di più Abruzzo e di più Europa che c'è paura c'è paura per la precarietà ma dalla precarietà e da questa situazione di preoccupazione verso il domani si esce se torniamo a riappropriarci della speranza del sorriso della condivisione con gli altri della fatica della costruzione e del progetto noi questo abbiamo messo in campo a sostegno di Giovanni Legnini che ha dimostrato di saperlo fare e di essere persona istituzionalmente apprezzata a livello nazionale e internazionale è una partita che raccogliamo da oggi per i prossimi mesi con tutte le forze che abbiamo messo in campo al servizio dei cittadini senza parole di odio senza parole di violenza ma sapendo che dalla fatica e dal lavoro si costruisce la ricchezza di un paese di una regione a chiudere Alfonso D'Alfonso centristi per l'Europa qual è la portata della scelta che si trova davanti il cittadino elettore abruzzese il prossimo 10 febbraio perché votare per voi perché votare per Legnini Presidente io voglio iniziare soprattutto perché votare Legnini Presidente perché questa tornata elettorale è una tornata elettorale importantissima per la nostra per la nostra regione mai come in questa occasione le nostre città e i nostri territori sono stati frequentati da uomini di governo vice premier capi di partito addirittura come dicevamo prima tra di noi lo stesso Silvio Berlusconi è ritornato a battere le città abruzzesi come come non faceva più da da anni ma queste presenze ci debbono indurre debbono indurre tutti gli abruzzesi a riflettere ci vengono a parlare ci vengono a portare a servire dei temi che non che non ci appartengono noi siamo una regione accogliente noi siamo una regione dove abbiamo bisogno anche di forza lavoro degli immigrati noi non siamo una regione dove l'immigrazione rappresenta un problema un problema aderimente ieri Salvini è venuto a Sulmona a dire che lui si vorrà far processare per i fatti noti non ha speso una parola sui nostri temi se non un generico riapriremo gli ospedali la Meloni diceva che bisogna ridurre i tempi di percorrenza sulla Pescara Roma a fianco a lei ad applaudire c'era Giandonato Morra che ha fatto l'assessore all'infrastruttura per 5 anni poteva dirglielo che su quell'opera degli investimenti sono in corso ma che non si può venire qua a prendere in giro gli abruzzesi un voto a Giovanni Legnini significa dare un voto a chi conosce questa regione palmo palmo a chi ha la portata ai vertici nazionali e se vogliamo anche una riconoscibilità internazionale a chi ha saputo avviare riannodare i nodi della politica con i territori con i sindaci con le realtà imprenditoriali noi vogliamo riportare all'interno del Consiglio regionale i valori del solidarismo cattolico per una regione solidale per una regione dove la cultura e l'impegno dell'associationismo del volontariato ritornino al centro della progettualità e sappiano ridare maggiore dignità ai più umili della nostra regione ai territori che hanno bisogno di maggiore solidarietà non abbiamo nelle nostre liste amministratori e consiglieri regionali uscenti non perché vogliamo segnare un distacco ma perché vogliamo essere una forza che con un rinnovato impegno sarà in grado possa essere in grado di dare uno slancio maggiore al futuro governo regionale e alla futura assemblea legislativa della regione Abruzzo grazie grazie ai nostri tre candidati con i quali mi complimento per la puntualità con la quale hanno rispettato i tempi grazie alla regia noi torneremo in studio per la nostra tribuna elettorale venerdì prossimo alle ore 21 con l'ultimo confronto tra i quattro candidati alla presidenza della regione poi lunedì invece in questo spazio delle 20 e 30 ospiteremo le liste sorteggiate nella circoscrizione provinciale di Pescara dunque appuntamento alle prossime tribune sul rete 8 grazie e buona serata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.